Un caldo benvenuto a tutti i tifosi collegati, siamo in diretta dalla sala stampa dello Stadio San Nicola in compagnia di mister Massimo Carrera, domani arriva la Paganese per la trentatresima giornata. Io direi di collegarci subito con i colleghi giornalisti partendo da Franco Cirici della Gazzetta dello Sport. Franco, prego. Franco. Abbiamo qualche piccolo problema di collegamento, vediamo se c'è il nostro collega Franco Cirici. No, direi di passare a Filippo Fasano del Corriere dello Sport e recuperiamo dopo il collegamento con Franco Cirici. Buon pomeriggio a tutti. Mi sente? Filippo ci senti? Sì, io vi sento, mi sentite? Mi sentite? Prego. Salve Carrera, senta, sei punti nelle prossime due partite fra Paganese e Vibonese, è un imperativo categorico per il Bari in vista della trasferta di Avellino? Sì, sicuramente è quello che ho sempre detto, dobbiamo cercare di andare in campo e dare il massimo, dobbiamo fare più punti possibile, quindi l'importante è la partita di domani, quindi siamo concentrati, sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo cercare di vincere questa partita per prendere fiducia, per lavorare con tranquillità, con serenità e poi proseguire il nostro percorso. Grazie a Filippo Fasano, linea adesso a Franco Cirici della Gazzetta dello Sport. Non lo abbiamo ancora, allora Antonello Raimondo della Gazzetta del Mezzogiorno, prego. Sì, buongiorno, mi sentite? Un po' di fischio? Sì, un po' di fischio Antonello, prego, provo a fare una domanda. Sì, buongiorno. Mister, una domanda, premettendo che i grandi giocatori possono giocare in qualsiasi posizione, nel senso che un attaccante può giocare centrale, da esterno o dietro una punta. Lei magari in questi giorni ha ripensato a riportare Antenucci in una posizione più avanzata, nel senso che un giocatore che comunque vi può inventare la giocata decisiva, insomma, tornerebbe nel suo ruolo più naturale? O lei è ancora convinto che lui possa dare il massimo, diciamo, dietro Cianci? Grazie. No, abbiamo provato in settimana diversa soluzione, quindi io so quello che può dare Mirko nella sua posizione naturale. In questo momento noi stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore, per mettere in condizione tutti i giocatori di dare il meglio. Quindi domani vedremo, oggi vedrò nel finitura, come affrontare la Paganese. Grazie ad Antonello Raimondo. Adesso dovremmo aver ricollegato Franco Cirici della Gazzetta dello Sport. Ci riproviamo, Franco? Ci senti? Io ci sono, vi sento bene. Voi mi sentite bene? Sì. Mi sentite bene? Sì. Massimo dice sì. Allora Massimo, tu sei prima arrivato eroe per quattro giornate, è tornato il priscio, l'entusiasmo, negli altri quattro sei diventato di nuovo un uomo qualsiasi, uno che fa quello che può. È vero che mancano sei partite alla fine, è vero che i conti si fanno alla fine, ma voglio chiederti, ti sei chiesto nel frattempo dove non sono tornati i tuoi conti? Sono tutti i giorni, quindi io sono qua per quello, quindi devo cercare la soluzione migliore, e in queste settimane stiamo cercando di trovare la soluzione migliore per mettere in condizione la squadra di esprimersi al meglio. Quindi, ripeto, io sono carico, non ero un eroe prima, ma non sono nessuno adesso, quindi sono un allenatore che cerca di fare il suo lavoro per mettere in condizione i giocatori di dare il 100%. Grazie a Franco Cirici. Lina adesso a Leonardo Gaudio di Tutto Sport. Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio, Leonardo e Valeria. Sente, mister, io in questi giorni vedo che si parla troppo di play-off e meno delle sei partite ancora da disputare che stabiliranno la griglia di partenza poi ai play-off. Poi ha detto che alcuni suoi giocatori pensano di aver vinto la gara prima ancora di entrare in campo e penso che domani sottovalutare i campani, terz'ultimo in classifica, sarebbe un errore. Poi un'ultima cosa, se mi è permesso, sta funzionando il ritiro? Grazie. Sicuramente se dovessimo andare in campo commettendo lo stesso errore che commesso nei partiti precedenti sarebbe gravissimo. Quindi sappiamo, noi sappiamo che dove abbiamo sbagliato è quelle partite che abbiamo perso con le squadre sulla carta inferiori a noi e questo dobbiamo capirlo e non dobbiamo commettere i stessi errori. Quindi penso che sbagliando si impara e poi il ritiro sta funzionando perché siamo assieme, si guardano i video, si cerca di trovare la soluzione migliore, si guardano gli errori che si fanno, qui si cerca di far capire cosa vogliono dai giocatori e la settimana abbiamo lavorato bene e quindi adesso manca solo di mettere tutto sul campo quello che stiamo guardando, che stiamo provando, dove ci stiamo allenando. Grazie a Leonardo Gaudio, linea adesso a Cristian Siciliani di Telebari Ciao Leonardo, buongiorno mister, mi sentite? Mister, le chiedo innanzitutto come sta Marras e se in un ipotetico 3-5-2 nella sua idea di calcio può fare anche l'esterno a tutta fascia? Vedremo oggi, ieri è uscito durante l'allenamento perché è ancora un po' fastidio, oggi valuteremo sicuramente può farlo nel 3-5-2 l'esterno di fascia è normale che sicuramente è più utile in attacco perché fare tutta la fascia magari può spendere tante energie soprattutto quando deve fare il difensore quindi sarebbe meglio utilizzarlo come esterno alto Grazie a Cristian Siciliani, linea adesso a Claudia Carbonara di Antenna Sud Buongiorno, mi sentite? Prego Claudia Buongiorno a tutti Carrera, una domanda che riguarda la difesa ci sono stati ultimamente diversi errori io so che quando sbaglia la difesa non è solo colpa della difesa lei me lo insegna, sbagliano i centrocampisti a non coprire se vogliamo anche gli attaccanti che non arretrano però c'è un fatto che ci sono alcuni calciatori parlo di sabbione in primis che stanno sbagliando un po' troppo non è diventato un brocco, è chiaro però evidentemente non è sereno in questo momento io parlo di serenità è il caso di insistere ancora su un calciatore che non è sereno dall'esperienza che si è fatta anche a livello internazionale le chiedo questo ancora sabbione? oggi valuterò ma non è quello il problema perché sono tutti errori di singoli giocatori quindi frutto magari di superficialità, di attenzione basta poco per cambiare questa situazione è normale che magari non sia sereni, non sia tranquilli il primo errore ci puniscono però noi dobbiamo continuare a lavorare pensare che noi siamo forti siamo una buona squadra e possiamo giocarcela con tutti quindi dobbiamo andare in campo e sgomurare la mente da tutte queste paure giocare a calcio e fare quello che sappiamo fare grazie a Claudia Carbonara linea adesso a Davide Lattanzi di Levelsport sì, buongiorno mister buongiorno Leo volevo chiedere è chiaro che magari adesso mi risponderà insomma che è fondamentale pensare ad una gara per volta ma dato che sui playoff potrebbe cambiare qualcosina a livello di formula se ne sta parlando in Lega in questi giorni si potrebbe passare a delle formule abbreviate quindi diciamo il piazzamento finale è fondamentale credete ancora alla possibilità di arrivare al secondo posto che comunque è quello migliore per disputare gli spareggi e promozione noi giochiamo per quello il nostro obiettivo è quello non andiamo in campo pensando altre cose il nostro obiettivo è quello di fare più punti possibili per arrivare a secondi perché prima ormai è quasi impossibile quindi il nostro obiettivo è quello andare a prendere la seconda posizione che ti permette magari dei playoff più tranquilli quindi sappiamo sappiamo che è un momento particolare come può succedere nel calcio ma dobbiamo continuare a lavorare tranquilli e sereni e dando 100% di quello che possiamo fare solo quello quindi io sono carico e cercherò di trasferire questa mia voglia di fare alla squadra perché noi dobbiamo e possiamo abbiamo le qualità per farlo grazie a Davide Lattanzi linea adesso a Michele Mitarotondo TRM Network buon pomeriggio buon pomeriggio Leo buon pomeriggio mister mister è un periodo delicato nell'ultima partita contro il Catanzaro la squadra è sembrata anche un po' lasciarsi andare mollare un po' e io le chiedo quindi come fare a riaccendere l'entusiasmo di questa squadra come fare a ritrovare quella grinta, quella scossa che lei aveva dato all'inizio della sua gestione grazie lavorando lavorando e trovando un 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 fatto positivo magari un tiro mezzo e mezzo che prende il rimpallo e fa gol quindi qualcosa di di positivo che ti possa far cambiare la mentalità quindi in questo momento magari al primo errore che si fa si piglia gol perché anche Catanzaro non sono d'accordo con quello che ha detto non abbiamo fatto una grande partita però le nostre occasioni le abbiamo avute e abbiamo sofferto pochissimo e abbiamo preso dei due gol evitabilissimi sui nostri errori quindi la squadra ha avuto le occasioni per farlo e quindi l'importante è quello ci vuole un'occasione positiva che ti faccia cambiare la testa e ti faccia capire che noi siamo una grande squadra e possiamo giocarcela con chiunque anche perché fino adesso nessuna squadra ci ha messo sotto quindi le partite che abbiamo perse sono state per demeriti nostri non per merito degli altri da tutte le partite che abbiamo perso e quindi dobbiamo capire questo che noi siamo una grande squadra siamo forti e possiamo giocarci alla pari con tutti fino alla morte grazie a Michele Mitarotondo linea adesso a Paolo Ruscito di Radio Selene buon pomeriggio mister buon pomeriggio Leonardo sicuramente tra le situazioni oggetto della sua valutazione e di correzioni c'è quello che accade in attacco mister dove ci sono due calciatori che stanno vivendo un momento di appannamento penso da Antenucci che non segna da quasi due mesi e Cianci che non segna da quasi un mese le chiedo se si è dato una spiegazione se dipende da un momento di crisi personale non sono evidentemente messi nelle migliori condizioni per poter esprimere al meglio le loro qualità e come si può aiutare questi ragazzi e magari in generale la manovra del Bari a essere più efficace in zona gol che ultimamente sta rappresentando qualche criticità grazie mille assolutamente gli attaccanti vivono di questo quindi ci sono periodi che un attaccante tocca mezza palla e fa gol e periodi che toccano hanno 3-4 occasioni e non fanno gol perché in queste partite sia Cianci che Mirko hanno avuto occasioni o per un motivo o per l'altro non sono riusciti a fare gol però le occasioni le hanno avute sicuramente in tante situazioni la squadra non riesce a fargli arrivare i palloni giusti giocabili per le loro caratteristiche e quindi stiamo lavorando su quello quindi per mettere in condizione i nostri attaccanti ma non solo Cianci e Antenucci ma anche gli esterni che devono attaccare più l'area quando la palla da una parte quindi stiamo lavorando su quello però ripeto le occasioni riusciamo a crearle poi dopo ci vuole anche tra virgolette un pizzico di fortuna a volte che può far girare tutto l'attaccante purtroppo è questo è questo l'attaccante grazie grazie a Paolo Ruscitto linea adesso a Luca Guerra Gianluca di Marzio punto com sì buon pomeriggio mister buon pomeriggio Leo le chiedo come sta Marras se è recuperabile se ha già un risponso definitivo o meno sul giocatore e le chiedo anche se reputa Mercurio pronto per una maglia dal primo minuto grazie allora Marras non ha ancora parlato con lo Stammedico ieri aveva ancora un problemino al polpaccio dove ha preso una botta domenica Catanzaro quindi aveva un po' fastidio quindi oggi valuteremo questo Mercurio si sta allenando bene è un gioco interessante quindi può essere pronto per giocare la partita grazie a Luca Guerra linea adesso a Marco Iusco 100% Vari buongiorno Leonardo buongiorno mister le chiedevo dato insomma diversi errori della difesa però ovviamente come ricordava lei bene si vince e si perde in undici se potrebbe esserci anche una chance magari un debutto ma anche a gare in corso di un altro giovane che col vizio del gol un difensore centrale classe 2002 Alessandro Pinto grazie ripeto i giovani vanno messi in campo quando sono pronti sono pronti per affrontare queste situazioni e bisogna mettere in condizione di far bene in condizioni particolari è complicato ma non per me perché io ho fiducia nei giovani quindi non è un problema è complicato magari al primo errore condannarlo e crocifiggerlo quindi bisogna andare con i piedi per terra e metterli in condizione di entrare quando le cose sono tranquille sia per la squadra sia per la situazione dove il ragazzo non vada in campo e abbia paura anche lui di sbagliare grazie grazie a Marco Iusco linea adesso a Stefania Di Michele il Bari TV mi sentite salve Leo salve mister mi sentite bene? pronto? prego Stefania ti sentiamo ok perfetto mister le chiedo se si aspettava una situazione così complicata quando è arrivato a Bari e se è questo il momento più complesso e complicato della sua carriera ad allenatore sicuramente se mi hanno chiamato a sostituire Autieri sicuramente c'era qualche problema però fa parte fa parte del calcio le situazioni nel calcio sono sempre così mi sono capitate anche altre anche altre volte però si esce solo con con la voglia di lavorare con l'entusiasmo senza smettere di di crederci e trasmettere la positività al gruppo quindi il nostro lavoro è questo io sto facendo questo aiutato anche dal ritiro che dove posso parlare con i giocatori conoscerli meglio e quindi il nostro lavoro è questo dobbiamo continuare a lavorare e cercare di trovare la soluzione migliore per qualsiasi giocatore anche fisica o mentale quindi stiamo orando su 360 gradi per cercare di ripartire ripartire e fare il finale alla grande grazie a Stefania Di Michele linea adesso ad Andrea Papaccio tutto Bari buon pomeriggio mister buon pomeriggio Leo volevo sapere se si aspettava qualche acquisto dal mercato svincolati e se sta sentendo la mancanza di una figura dirigenziale che faccia tra collante tra squadra e società ma sicuramente svincolati è difficile trovare svincolati che siano pronti per giocare subito perché gli svincolati ci sono svincolati che non si allenano da un anno non giocano da un anno quindi prima che entrano in forma ci vuole un mese e mezzo due mesi quindi è quello la società la sua vicinanza me la fa sentire perché io mi sento quotidianamente col presidente questa settimana è qua con noi ritiro con noi quindi parliamo ci confrontiamo quindi non mi sento solo la società è vicina a me e affronta con me questo percorso anche se in questo momento può sembrare complicato ma siamo uniti per l'unico obiettivo grazie ad Andrea Papaccio chiudiamo con Marcello Mancino di Media TV buongiorno buongiorno mister buongiorno Leo beh mister ho ascoltato un pochettino le sue parole voglio diciamo epilogando questa settimana diciamo che io l'intitolo con un film The Day After Tomorrow perché chiaramente ieri la la conferenza stampa del presidente oggi la sua e domani grazie a Dio parla del campo proprio sul campo voglio tornare con lei per chiederle questo è stata la settimana del ritiro un ritiro che sappiamo punitivo un ritiro che vede chiaramente i giocatori quelli che non hanno famiglia più tranquilli più disponibili ovviamente al rapporto con il calcio appunto con il mister mentre chi ha famiglia e ci sono i cosiddetti senatori su tutti Antenucci ma tutti gli altri giocatori che hanno famiglia hanno chiaramente più sofferto questo ritiro le chiedo a prescindere dal risultato di domani se questo ritiro proseguirà o meno e quali indicazioni ha tratto comunque da questo ritiro grazie mister non so come può sapere queste cose perché io ho visto sia i senatori come li chiamo a lei molto carichi propositivi a ritiro quindi far gruppo con gli altri giocatori sappiamo che è un momento così li ho fatti anche io gli ritiri tantissimi quindi sappiamo che quando ci sono periodi particolari si va in ritiro ma non è un ritiro punitivo assolutamente è un ritiro per ritrovare compattezza tra il gruppo chiarirsi le idee confrontarsi con le idee e quindi non è sicuramente un ritiro punitivo grazie a Marcello Mancino e a tutti i colleghi che sono intervenuti l'appuntamento è per domani ore 17.30 Bari Paganese Stadio San Nicolai forza